Bobby Bobby, Bobby Bobby, Bobby Bobby, sono un clown, sono un clown, è un clown sto arbitro eh Applausi, applausi, ha fatto proprio una grandissima gestione della gara e devo dire la verità, proprio bravissimo Mamma mia ragazzi, è una vergogna, non ha dato un rigore che io non avrei neanche esitato un secondo a dare La fermata di Mano, la fermata di Mano, è inconcepibile, siamo al 91esimo su 7 minuti di recupero, c'è tempo Perché 6 minuti sono tantissimo, è possibile fare 3 gol come farne 0, è veramente incredibile, mamma mia Mamma mia, veramente clamoroso e a mio parere anche mezzo vergognoso ciò che ha fatto l'arbitro Mano netta, netta, non ha dato quel fallo di Mano che era netto, non netto, è più, è più, è netto, è più Mamma mia, ci sono veramente rimasto male tutti a dire l'Atalanta, vince l'Atalanta, vince l'Atalanta, ma che cazzo state a dire Ma vadeli, che cazzo state a dire L'Ipsia, una squadra formidabile, Domenico Tedesco ha rivitalizzato questa squadra, l'ha fatta diventare di nuovo una squadra dall'addio di Nagelsmann Mamma mia, veramente L'Atalanta ora come ora è anche squadra molto sopravvalutata, perché oggettivamente, ma non sto dicendo questo perché sono incoerente Ma perché ora come ora è una squadra non da Champions League, forse da Europa League, ma neanche In alcune situazioni dimostra di non essere neanche da Europa League Per quanto mi riguarda, per come vedo io il calcio Ormai ragazzi sto diventando troppo un meme di Antonio Cazzaro, però vabbè Per come vedo io il calcio, è una squadra sopravvalutata Poi ha giocato, quello certo ha giocato, ma nel calcio ricordiamoci che contano i gol Questo lo direi a Antonio Cazzaro, che i gol contano Giocare a calcio conta quanto? Zero per quanto mi riguarda Conta zero giocare bene a calcio Giocare bene a calcio è sicuramente più bello che vedere catenacce e contropiede Ma alla fine, quanto conta giocare bene? Conta pari a zero Il suo valore è zero, quello del giocare bene Siamo al 93esimo, sta finendo la gara L'Atalanta ha fatto una grande prestazione, ve l'ho detto Ha dimostrato di potersela giocare anche con grandi del calcio teresco Come l'Ipsia, che tranquillamente potrebbe contrastare il Borussia Dortmund per la seconda posizione Non vi ricordo adesso esattamente dove sono, ma mi ricordo che sono tipo in terza o in seconda Vicini al Borussia comunque Il Bayern è il Bayern Però abbiamo dimostrato che il Bayern non è una squadra così, ragazzi, formidabile Che può essere incontrastabile Perché negli ultimi due e tre anni No, non negli ultimi due e tre anni Ma nell'ultimo anno e mezzo ha perso un po' di certezze Dimostrazione è la partita che ci ricordiamo bene Persa contro l'offe in tipo 5 a 1 Alcune partite che non sono andate benissimo Una sconfitta contro il Bochum in cui tipo non tiravano Hanno perso col Villareal Una squadra che nell'ultimo anno e mezzo ha perso veramente tante certezze Dall'Olimpo del calcio, dall'essere la squadra a battere Al aver perso tante certezze Secondo me tutto questo inizia con la partita persa ai quarti di finale Di Champions League dell'anno scorso col PSG Inizia con l'addio di Flick Queste, ragazzi, sono cose che nessuno affronta E infatti vi dovete iscrivervi Ma sono cose che nessuno bata Questo, ragazzi, secondo me è veramente incredibile Come nessuno parli del Bayern Monaco Come la squadra impossibile Tutti la parlano come la squadra impossibile da battere Mentre invece nessuno parla come una squadra Non in decaduta Perché non è in decaduta Ma non voglio neanche fare l'incoerente Perché fino a qualche mese fa vi avrei detto Che è una squadra a battere Ma una squadra che è fortissima Sulla carta Ma ha perso certezze Vorrei dire questa Ha perso tante certezze Come del resto l'Atalanta Da quando, ragazzi, l'Atalanta Quest'anno Dopo Io non vorrei dire dopo Napoli-Atalanta Ma dopo qualche partita Secondo me anche già dal Juve 0-0 Dal Juve-Atalanta 1-1 In cui si giocava il quarto posto L'Atalanta ha perso certezze Ne ha perse tante L'Ipsia l'ha persa l'anno scorso L'ha perso più o meno un anno fa Quando se n'è andato Nuggetsman Ha perso tante certezze Tutte le squadre E ancora l'Atalanta L'Atalanta secondo me, ragazzi È un'ottima squadra Che è una favola È un po' come l'Udinese Solamente un Udinese più forte E più grande anche Perché Arrivare ai quarti di Champions Non l'ha fatto l'Udinese Arrivare ai quarti di Europa League Non l'ha fatto l'Udinese Ma non perché sto facendo un paragone con quello Ma perché ogni tanto, ragazzi Ci sono queste squadre Intanto il Leicester passa il turno A mio parere inaspettato Passa il turno di Europa League Di Conference, scusate Dopo andremo a parlare anche di Roma A Bodoglint Ma l'Atalanta che nell'ultimo anno Nell'ultimo metà anno Un anno anche Volendo Ha perso un po' di certezze Fatto sta che l'Ipsia ha perso certezze Dopo l'addio di Nuggetsman E l'ha rinconquistata Io sono certo che l'Atalanta Può tornare a fare delle ottime gare Magari adesso siglare Ragazzi il gol della bandiera sarebbe fondamentale Io onestamente ho qualcosa da ridire Sull'arbitraggio Perché è stato a mio parere Un arbitro ridicolo Ha fatto un arbitraggio pinoso Che non sta né in cielo né in terra Perché quando Inizialmente non aveva dato nulla Ma ci può anche stare Perché il VAR ragazzi Cosa è fatto? Se l'arbitro non vede niente Invece il VAR Gli assistenti del VAR Vedono qualcosa che potrebbe non essere regolare Lo chiamano a vederlo Ma è giusto Ci sta a non vedere Avere una svista Poi vai a rivedere Ma quello è in mano netta Perché devi al pallone Come se fosse il portiere Un pallavolista Ragazzi Ha fatto il pallavolista Qua a zapata Fuori di tantissimo Siamo al 96 E 53 Io ragazzi Direi che ci possiamo salutare Ciao